ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata allora voglio fare un video di risposta a tutti quei messaggi che mi stanno arrivando mi stanno arrivando delle mail mi stanno arrivando dei commenti la gente è uscita di testa da quando ho detto che la bolla è scoppiata i prezzi sono in caduta libera per quanto riguarda rolex e mi dite ma non è così dove li trovo signori chi non è capace a trovare questi su crono 24 i prezzi più bassi qualcuno li aiuti metteteli sotto il link svegliatevi insomma in qualche maniera dite qualcuno dice ma in italia ancora non non si trovano ho capito ma l'italia ormai sono anni che fuori dai giri quelli importanti è chiaro che questo questa deflagrazione è scoppiata nei posti dove questi orologi sono stati comprati in questi anni ovvero negli stati uniti ovvero in giappone sono per ora sono lì che che arrivano ma poi naturalmente arriveranno anche qua sono sono segnali non è troppo presto qualcuno dice no ma è troppo presto vedrai che non è così c'è la bomba è scoppiata i prezzi sono in caduta libera e si vede chiaramente basta aprire crono 24 ce l'avete tutti e fate cliccate sul prezzo più basso e io sto guardando soltanto gli stati uniti perché potrei trovare anche prezzi magari ancora più competitivi da altre parti e su crono 24 che c'ha una commissione per cui è naturale che a questi prezzi qua che io ora vi dico negli stati uniti si trovano gli orologi passati da persona privata a privato a mille euro o meno per cui allora il daytona si trova a 17.200 euro su crono 24 negli stati uniti il rolex hulk a 11.100 allora il rolex hulk ha avuto come punta più o meno 15.000 euro il daytona era arrivato a 23.000 euro poi abbiamo il rolex gmt il batman 11.000 euro anche quello era a 15.000 euro 15 16.000 euro poi c'è il gmt il pepsi a 13.000 euro e quello era a 17.000 euro su su naturalmente dai rivenditori in tutto il mondo per cui è chiaro che in quel momento lì tutti erano sullo stesso sullo stesso livello ma io non vi ho detto andate e comprate ora non è il momento questo io vi ho detto è appena scoppiata la bolla ma oltretutto c'è una quantità enorme di orologi che sono tornati sul sul mercato che se non non la vedete che prima non c'era tutta quella moltitudine lì di orologi allora è chiaro che non riuscite a capire che la che la bolla è scoppiata non riuscite a vederlo è chiaro che in quella moltitudine di orologi se qualcuno vuole avere una chance di poter vendere l'orologio è chiaro che deve andare sotto di prezzo perché altrimenti a parità di condizioni e lì sono tutti orologi nuovi è chiaro che l'orologio non si vende se uno c'è perché uno dovrebbe comprare a parità di condizioni di due venditori comunque fidati trusted e dovrebbe comprare quello che costa di più cioè non ha non c'è nessun significato e è chiaro che l'america ora ora come ora sta tirando ma voi sapete in quanti anni mi hanno scritto dall'america e mi hanno detto sto venendo in italia in vacanza quant'è il costo sapete quanti orologi che se ci prendevo la commissione io ero ero a questo punto ero sistemato cioè tutta questa gente che non trovava più negli stati uniti gli orologi i rolex veniva in italia per comprare sapete quanti gmt non si gli explorer 2 che ancora qui si trovavano quello bianco quello nero che sono che sono stati venduti che là non si trovavano e che là non si trovavano più oppure si ritrovavano ma soltanto dai reseller è chiaro che il mercato grosso era quello lì naturalmente anche la cina era un mercato abbastanza consistente ma quello grosso era il giappone ed erano gli stati uniti questo sicuramente erano i mercati che più trainavano insieme agli stati uniti naturalmente tutta la zona anglofona soprattutto anche l'inghilterra per il discorso che vi ho anche detto nel video quello precedente cioè che tanti inglesi tanti britannici sono stati spinti proprio dal fatto che la gran britannia stava per uscire dalla dall'unione europea per cui per sfruttare i vantaggi che gli dava il fatto di essere all'interno proprio della della comunità signori bisogna svegliarsi cioè svegliarsi pensare che il mondo è più grande dell'italia cioè che noi ormai il tempo è finito cioè il tempo in cui davamo il nome agli orologi il po newman cioè il mondo è andato avanti noi siamo rimasti assolutamente fuori da questo da questa da questo mondo per cui non vi aspettate che in un attimo arriveranno in italia tutti questi tutti questi reseller certo cioè che i reseller avranno questi prezzi come sono negli stati uniti chiaro che gli stati uniti e il giappone saranno quelli che andranno per primo andranno sotto è chiaro su questo non non ci sono dubbi bisogna muoversi cioè bisogna capire quali saranno e comunque aspettare perché qua bisogna ancora aspettare perlomeno sei mesi prima che il prezzo arrivi alla al fondo io credo che i daytona oggi sono erano a 23.000 euro il picco oggi sono a 17.200 a 17.200 segnatevi quello che vi dico perché poi comunque io ve lo ve lo ricorderò i daytona quel questo modello qui io non sto dicendo quello che verrà poi se uscirà perché in questi frangenti è anche possibile che possa uscire anche un daytona nuova magari il prossimo anno nel 2021 comunque questa referenza qui oggi in produzione io mi immagino che possa arrivare tranquillamente a 10.000 euro l'usato usato naturalmente spellicolato però in ottime condizioni quindi pari pari al nuovo 10.000 ma non mi meraviglierei anche se arrivasse a 9.000 tutti questi orologi qui andranno a finire sotto sotto il il listino e quello che sarà il listino verranno fuori anche lì verranno fuori delle scontistiche questo state stateci tranquilli su questo fatto qui succederà è già successo la rolex ha già venduto questi orologi qua con scontistiche parlo sicuramente del rolex hulk parlo del gmt in alcuni momenti anche del daytona magari non l'ultimo daytona quello ceramico ma quello quello precedente quelli lì assolutamente in quegli anni lì venivano venduti con con delle scontistiche e questa questa è la situazione questo è quello che avverrà bisogna che un attimino aspettiate bisogna che stiate con con gli orecchi ritti che cerchiate di avere mantenere la calma perché qua tutti ora sono in preda a voler comprare soprattutto quelli secondo me che si trovano in una situazione da avere o di essere dei dipendenti cioè di essere magari dei medici o magari essere dei non so dei del impiegati magari o dipendenti di aziende magari grosse ora sono tutti lì presi per voler comprare fare l'affare finalmente io dico signori oggi non è il momento di tirare cioè di prendere quello che uno ti propone cioè aspettare 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 questo è quello che dobbiamo quello è che quello che dobbiamo fare in questo questo momento qui chi è interessato naturalmente a comprare questi orologi che poi sono stati quelli che hanno tirato perché poi di fatto da noi io sto parlando da noi sono stati il daytona che non si trovava il look il rolex gmt quello batman ma soprattutto soprattutto quello pepsi era quello più ricercato quello batman era sempre abbastanza ricercato ma un pochino meno perché il batman non è che abbia una una storia così incredibile ecco come il pepsi no diciamo il primo gmt era sicuramente il pepsi dopodiché l'explorer 2 e l'explorer 1 comunque sia in italia si trovavano in qualche maniera cosa che negli stati uniti e in giappone già non si trovavano più per cui loro sono quelli che veramente hanno fatto hanno fatto man bassa sono quelli che hanno comprato a diritto e sono quelli che hanno fatto mancare effettivamente il che hanno fatto mancare sicuramente gli orologi perché la cina è vero che è una grande è vero che compra ma non pensiate che compri così tanto tanto come come si potrebbe pensare ovvero avrebbe la possibilità la cina di comprare quanto vuole ma in cina il rolex è visto come un segno di corruzione per cui si lo comprano l'hanno comprato ma lo comprano poi lo lasciano a casa lo lasciano una cassetta non è un oggetto che venga ostentato che venga anzi è più un segnale più un segnale di corruzione per cui in alcuni momenti addirittura è stato è stato molto limitato proprio l'acquisto da parte dei cinesi quando erano all'estero quando erano quando erano magari negli stati uniti gli è stato impedito proprio di portare fuori soldi per poter comprare questi questi orologi e lì infatti si sono avuti negli anni passati anche delle piccole crisi che ha subito proprio la rolex parliamo del 2010 parliamo di quegli anni lì dopodiché ecco proprio per il mondo anglosassone che tirava il giappone che tirava e comunque delle un po di acquisto c'è anche dal dall'europa comunque da quella parte diciamo che comunque sempre ha un'economia ancora reale in in mano e questo ha fatto sì insieme al fatto che rolex avesse chiuso il comunque un po rubinetti ma non di tanto forse da un milione di pezzi si era andati a 800 mila ma tutta questa situazione qui questa mancanza aveva creato ecco questa questa bolla questa bolla è praticamente deflagrata ormai è scoppiata siamo in caduta libera si salvi chi può però tenete tenete duro ancora per sei mesi poi fate come vi pare tanto a me non me ne frega nulla tanto io non ci guadagni assolutamente niente per me non ci sono assolutamente potete fare quello che volete però io assolutamente vi ricorderò che in questa data qui ve l'avevo detto fra sei mesi ovvero a gennaio del 2021 riconfronteremo questi prezzi questi prezzi che io vi ho dato e vedrete che di quanto di quanto mi discosterò dalla dalla mia previsione ok se vi è piaciuto questo video come sempre mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti